Una mia collette, un'amica innanzitutto, una grandissima cantante, come ce ne sono pochissime ormai, come avrete notato noi non abbiamo niente di registrato, e neanche lei è registrata, lei è una grandissima cantante, è stata la mia collega in un grandissimo spettacolo che si chiama I Promessi Sposi, io faccio l'innominato e lei fa la madre di Cecilia, dal novembre saremo in giro per tutta Italia e vi prego di venire a vedere questo spettacolo, anzi vi consiglio di venire a vedere questo spettacolo perché è un grande spettacolo, e lei è Chiara Luppi! Si è messa una cosina così, vorrei che Chiara ci facesse una canzone bella, che si intitola «You make me feel like a natural woman» cioè mi fai sentire come una donna naturale, naturalmente come una donna, diciamo, cioè la fai? Dai, dai! Beh, ciao! Ci sta! Io non farò, perché il tipo di cosci non lo so Io non farò, perché io mi venga sentire come una donna, diciamo, fatto perché io mi face classe, la canzone, ci stai sentire come una donna, diciamo, però dovrei lasciare me feel, stai sentire come una donna, ciamo, Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.